Perfetto, io sono nato nel 1960 qua a Darmine, in una frazione sforzatica di Darmine, in una casa che allora non sono della Darmine, però poi da lì, che mio papà e mia mamma sono venuti a Darmine proprio per il lavoro della Darmine, siamo andati nelle case della Darmine, abbiamo girato anche il quartiere Garbani, che è tutto un quartiere costruito apposta per i dipendenti della Darmine, c'è andato gli impiegati, gli ocarai e tutte le persone lì che erano abbinate direttamente nel lavoro della Darmine. Quando finiva la scuola, il periodo dell'estivo si gestiva un po' tra le piscine perché erano qua a Darmine ed era il punto dove andavi quasi sempre. E le colonie, quando partivamo dalle pensiline qua di Darmine, c'erano i pullman diretti della Darmine che prendevano dei pullman a noleggio, caricavano solo bambini con 2 o 3 insegnanti o meno e si portavano alle colonie. Quando sono entrato nell'80 sono entrato subito alla cedia della Darmine e ho lavorato come operaio tutta la vita da operaio fino al 2010, ho fatto 30 anni in la cedia e la notte era quella che facevo più spesso perché mi rendeva la giornata più libera ed era meno pesante, anche perché nella cedia fa caldo, è un ambiente molto fumoso, molto pieno di rumori e caldo. di notte fa meno caldo. Essendo così tanta gente, ed erano le portinerie grandi eccetera, quando si entrava e si usciva proprio si vedevano le strade della città ingombrate da biciclette e chi aveva la macchina, chi motorino e così via, flussi di persone proprio che non andare via adesso perché il provinciale è occupato di quella della Darmine. Fuori dalla Darmine ci si poteva ritrovare all'antenna c'era l'acli, c'erano posti dove tanta gente andava lì per bere o per giocare a carte o fare cose che adesso non ci usano più così tanto. Adesso a Darmine ci sono anche fuori dalla Darmine tantissime cose, ci sono tanti, la biblioteca di una orna è grandissima, le piscine sono diventate coperte e scoperte, c'è tante, tante cose. Grazie.